Spero di essere fedele alla Repubblica italiana, non servare la Costituzione delle leggi e di adempere con disciplina e dolore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la santo patria delle liberi istituzioni. Siamo fieri di avere uomini e donne valorosi al servizio della comunità nel difendere la giustizia, proteggere gli indifesi e mantenere l'ordine pubblico. Il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha partecipato al solenne giuramento del 142esimo corso degli allievi carabinieri di Torino, esprimendo il suo applauso e la sua gratitudine ai giovani carabinieri che hanno scelto di dedicare la propria vita al servizio della sicurezza e della legalità. Ho avuto l'onore di consegnare gli alamari direttamente a un'allieva di Asti, Giulia, con grande emozione perché era un'emozione da parte dell'allieva, di tutti gli allievi, ma era emozionante anche per me personalmente, che non ho fatto i carabiniere, ma onoro e cerco di rispettare sempre le forze dell'ordine e portare rispetto a chi tutela il nostro territorio e far rispettare la legge. La manifestazione svoltasi al Palassi di Torino ha rappresentato un momento di grande significato per la comunità locale, evidenziando l'importanza della collaborazione e del supporto istituzionale alle forze dell'ordine. Presenti alla cerimonia anche i consiglieri Domenico Rossi, Raffaele Gallo, Letizia Nicotra, Sara Di Sabato, Federico Perugini e Silvio Magliano. Un mestiere difficile, ma contemporaneamente anche molto sfidante e molto importante per loro e per il loro futuro. Lasceranno le famiglie e andranno in giro per l'Italia. E' un bel messaggio per tutti i ragazzi che erano presenti oggi qui, le scolaresche, per chi vuole la nostra professione, più missione che mestiere, che comporta tanto cuore, molta mente, molto coraggio e anche molta consapevolezza che la società ha bisogno di loro. La scuola allievi carabinieri di Torino è un vanto per la città e per il Piemonte ed è forte e indissolubile il legame con l'arma. Il primo carabiniere della storia era piemontese. E' una città con cui guardiamo con straordinaria attenzione. Una città e una regione, quella del Piemonte, che sono ancora di punta. Certamente abbiamo dei problemi di infiltrazione mafiosa rilevantissimi. Abbiamo bisogno di gente preparata, capace di riconoscere il fenomeno. E in questo l'arma può essere un collante per unire e per sensibilizzare la società civile. Al termine della celebrazione il presidente all'Asia ha incontrato gli allievi degli istituti piemontesi presenti tra il pubblico, sottolineando l'importanza della formazione e della professionalità delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Presenti gli istituti Leardi Casale Monferrato di Alessandria, Erasmo da Rotterdam di Nichelino, la scuola Palazzeschi dal Piazza di Torino, l'istituto Natta di Rivoli, l'istituto Plana di Torino, Littis Pininfarina di Moncalieri, l'istituto di istruzione secondaria superiore Lagrangio di Vercelli, il liceo Domenico Berti di Torino, che dopo essere stati omaggiati dal presidente all'Asia della Costituzione italiana e dalla bandiera del Piemonte dell'Italia, sono stati guidati nella visita all'esposizione storica dedicata al corpo dei carabinieri, allestita per l'occasione al Palasti. Abbiamo da lavorare molto come istituzione, far conoscere ai ragazzi che cosa sono le istituzioni e le forze dell'ordine che tutelano e fanno rispettare le leggi.